a chi prega e stare insieme a chi è venuto in Italia ed è un nuovo italiano. La religione è come l'aria, la preghiera è come l'aria, non si vede. Molte persone nel mondo occidentale pensano che quello che non si vede non c'è, non esiste e non conta. La preghiera è qualcosa che sembra non essere vista. Ma la preghiera è davvero come l'aria. Senza aria noi non possiamo più vivere. Senza preghiera la vita è più povera e alla fine non è più vita. Per questo voi comunità Sikh in Italia siete la comunità di immigrati che fa della preghiera una parte importante della vita quotidiana e questa è una ricchezza per l'Italia. Voi pregate molto spesso per la comunità, per rimanere onesti, per lavorare seriamente, perché le vostre famiglie siano unite, per la comunità. Questi sono anche i valori su cui è nata e si è costruita l'Italia. Voi, per la vostra religione, per la vostra cultura, voi avete dentro di voi alcuni dei valori che hanno creato l'Italia. Per questo io credo che voi siete una ricchezza per il presente e per il futuro dell'Italia, per una Italia più mondiale, ma anche per una Italia più solidale. Un'Italia più mondiale, un'Italia più solidale con la comunità Sikh. Penso che voi oggi siete qui per la festa del turbante. Il turbante fa riconoscere in mezzo a una folla che voi siete Sikh. Ma essere Sikh vuol dire amore per la pace, amicizia, solidarietà. E poi amore per il creato, per tutte le creature, per tutta la vita. Allora io credo che voi siete una ricchezza per l'Italia ad essere migliore. Io mi impegno come Presidente del Comitato Diritti Umani della Camera dei Deputati ad aiutare la vostra comunità a aprire un dialogo nuovo con lo Stato italiano per il riconoscimento della vostra comunità in Italia. L'intesa tra lo Stato, il governo italiano e la comunità Sikh può essere riaperta e approvata perché è migliorato il clima culturale. Allora io con i vostri responsabili, Presidenti delle comunità, voglio ripresentare la richiesta allo Stato italiano. La seconda cosa che vi volevo dire è che ho presentato il progetto di legge per la cittadinanza italiana per i bambini che nascono in Italia non solo a 18 anni ma da quando nascono in Italia. Ma anche per i giovani che non sono nati in Italia ma che come voi studiano nelle scuole italiane il diritto di chi nasce in Italia il diritto di chi studia in Italia ad essere italiano. Ma anche che chi lavora in Italia chi ama l'Italia come voi madri e padri che possiate essere cittadini italiani non dopo dieci anni come adesso ma dopo cinque anni come in altri paesi d'Europa. perché i nuovi italiani fanno l'Italia migliore più bella nel mondo più solidale. Allora questo progetto è dentro la Camera dei Deputati è iniziata la discussione in commissione io ho speranza che nel prossimo autunno possiamo concludere l'esame della legge e sperare prima della fine dell'anno in una prima approvazione. Io ho speranza che nel prossimo autunno possiamo concludere l'esame della legge e sperare prima della fine dell'anno questo è il significato del mio essere qui sia la vostra festa del turbante per darvi due buone notizie che ripresenteremo la domanda per il riconoscimento della vostra religione per lo Stato italiano e la legge sulla cittadinanza e allora io vi ringrazio del turbante perché questo turbante aiuta anche i vecchi italiani a essere meno esibizionisti perché tanti vogliono stare in prima fila per essere visti per loro stessi per il loro interesse ma questo turbante vuol dire pace amicizia vita onestà non è per noi stessi ma è per la comunità e per il vantaggio di tutti allora io sono contento di essere alla vostra festa del turbante e ci rivedremo ad aprile alla grande festa grazie grazie Stati, Gioenti, Mafia, Gioenti di Pradhanhan, Ovi Rontu Aaihan, O Sanctante Darshan Karanke, O Nadi Translate, Gio Sade Nal Virkadehan, O Karanke. Voglio anch'io innanzitutto ringraziare tutti voi, tutta la comunità SIC per l'invito. E voglio portarvi il saluto dell'UNESCO, internazionale ma anche delle associazioni che qui rappresento, a partire dall'Associazione Immigrazione e Legambiente. Io provengo da un paese, Sabaudia, in provincia di Latina, dove la comunità SIC è presente da più di 30 anni e dove svolge un ruolo di fondamentale importanza per l'economia, per quella comunità, per la società. E ho imparato, sono cresciuto con quella comunità e ho imparato ad apprezzare la straordinaria dedizione al lavoro, l'onestà, la rettitudine. Ho imparato ad apprezzare la straordinaria capacità di accoglienza che la comunità SIC ha, cioè la capacità di accogliere tutti coloro che appartengono anche a religioni diverse. E questo è un insegnamento straordinario soprattutto per noi italiani, che dobbiamo tornare ad essere più accoglienti con chi viene da paesi lontani o da chi nasce in questo paese, da famiglie che provengono da altri stati. La conoscenza, lo scambio, l'incontro tra di noi è la premessa per raggiungere degli obiettivi importanti a partire dal riconoscimento della religione SIC da parte del governo italiano. Questo è un obiettivo che dobbiamo perseguire insieme, per noi è di fondamentale importanza perché accresce la civiltà di questo paese. Riconoscere il SICchismo come una religione di questo paese significa per noi essere più democratici. E' altra questione appunto il riconoscimento della cittadinanza più facile per chi è in questo paese da diversi anni e per le nuove generazioni, per i bambini. Il futuro dell'Italia sta sulle aspettative di vita di quei ragazzi oggi con il turbante perché loro sono la nuova Italia, saranno la nuova Italia. Gli italiani SICch significa fare un'Italia di pace. Gli italiani SICch significa fare un'Italia di pace. Io continuerò a frequentare i SICch in tutta Italia perché ogni volta esco dall'incontro e ho imparato delle lezioni. E potete essere sicuri che questo cammino che abbiamo iniziato insieme non terminerà, ma accelererà in maniera continua. A me piacerebbe vedere un giorno un'Italia in cui chi ha un turbante non genera interrogativi, ma viene accolto da tutti gli altri con grande senso di civiltà. È per questo che io vi ringrazio, è per questo che io mi auguro che presto verrà riconosciuta la religione SIC come religione di questo paese, perché presto non vi sia più discriminazioni per chi porta un turbante o il kirpan. Ed anzi, magari un giorno potrei io stesso mettere il turbante. Grazie mille. Grazie mille.